VAMOS HABLAR DELLOS PROSSIMOS PARTITOS POR QUANTO RESGUARDA ELIMINATORIAS COMME BOL EN PARTICOLAR MANERA TENGO CHE HABLAR ASSOLUTAMENTE PORQUE ES ALGO MUI SIGNIFICATIVO TENGO CHE HABLAR DE CILE E URGUAI Y COLOMBIA Y VOGIA ESPLICAR PORCHE VAMOS HABLAR DESTO Allí si tutto va a succedere come io Lo avevo imaginato, calcolato Alli darò una explicazione del porquè, secondo me, iban a clasificar Iriano a clasificar determinata selezione in altre Cabe dicir che CILE è... Osea, se il futbol non fosse ligato al negozio TENGAN POR SEGURO QUE LAS QUE SE CLASIFICARIAN SEGURO SEGURO Saria, a parte Brasile e Argentina, saria sicuramente Uruguai Non potrebbe faltare, è un mega mostro Saria, per suposto, CILE, COLOMBIA Talvez potrebbe essere Paraguai, eccetera Però, come che stanno i interessi economici Quindi, possono essere varianti Per cui non va una selezione e va un'altra Lo che succeduto anche nel 2018 Donde Perù logrò clasificarsi e non fuori CILE Che può anche succedere in un determinato modo Però, a chi ora sta presentando un scenario che un po' mi sorprende Allora, la prima che mi sorprende è CILE CILE, io avevo detto che con tutta probabilità Secondo i miei calcoli Avrei dovuto o ganare o, perlomeno, impattare contro l'Argentina Però, così non succeduto Ora, considerando che CILE si trova con 16 punti Questo vuol dire che CILE sta a rischio che non va a clasificar Per lo tanto, nei prossimi partiti CILE dovrebbe non perdere un partito Perché, se siamo a sumare, diciamo così I restanti tre partiti E considerando che CILE sta a 16 Saria 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 Si gana i tre partiti restanti CILE staria a 25 Con 25, 25, potrebbe succedere Che, chissà, si va a clasificare Dico chissà E, entonces, qual è il problema di CILE? Il problema di CILE è che, bueno, il prossimo partito Va a stare contro la Bolivia E allì, vamos a dire, non c'è problema Però, CILE si va a confrontare Nel altro partito Contra Brasile E, poi, si va a confrontare Contra Uruguai In pratica Si va a confrontare Contra due bestias Allì, hai che ver Se le dan chance Se le dan chance Non che CILE lo va a lograr De suo Por lo meno con Brasile È impossibile E, già solo se perde un partito CILE, già non va a poter Ma nisiquiera se va a empattare Non va a poter Perché a cada partito Estano solo tre partitos Tiene che gana tre punti Poi, otra selezione Che sta, diciamo così Che mi sorprende È Uruguai Uruguai, io avevo detto Che mi dava la sensazione Che, con toda probabilità Non iba a classificar Para dar chance A otras elezioni Però Si ha visto Un Uruguai Che ha ganato Il partito Ayer E, entonces Uruguai Parece che Hace in serio Entonces, ahora Il problema è questo Che nell'ultimo partito Che starà A marzo Uruguai Se va a enfrentare Proprio Con Chile E, ovviamente Tanto Chile Come Uruguai Non possono regalar Nada Se una delle due De verità O se le due Quieren Ganare La clasificazione Chile, ovviamente Ya lo ho detto Tiene che gana L'ultimo partito Però Tambien Uruguai Tiene che gana L'ultimo partito Per lo tanto A mi ora Me queda Difícil Saber Si va a clasificar Uno O va a clasificar L'ultimo partito La otra Non tanto Dal punto di vista Técnico Perché dal punto di vista Técnico Quien Estaria A poder Ganare E clasificar Seguramente Entre estas dos E seguramente Uruguai Non Chile Perché Uruguai È molto Más forte Però Si Por Voluntà De los Illuminados Está Planeado Que Chile Debe Clasificar E ir al Mundial E Uruguai No Está claro Que Uruguai Le decaria Chance De Ganare Este Partito Tambien Por Quanto Resguarda Colombia Colombia Tambien Me Está Sorprendendo Porque Estaria A riesgo Porque En este Momento Se Encuentra Solo Con 17 Puntos Y Para Clasificar Colombia Debe Ganar Los Restantes Tres Partidos Pero Le va A quedar Difícil Si Argentina No Le Deca No Le Hace El Favor De Ganar El Partito Ahora Vamos A Hablar Allora Bueno El Prossimo Partito Cile Bolivia Para Cile No Hay Problema Contra Bolivia Va Ganar Tranquillo 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 Tambien Por Quanto Resguarda Uruguay Contra Venezuela No Hay Assolutamente Problema Uruguay Va Ganar Con Venezuela Tranquillamente Mientras Che Argentina Colombia Alli Va Estar El Problema Alli Me Queda Difícil Ahora Lo Vuelvo A Repetir Colombia Necesita Ganar Los Restantes Tres Partidos Salvo Ya Uno Lo Lo Ha Perdido Y Por Lo Tanto Encontrándose Con 17 Puntos En Este Momento Colombia Para Clasificar No Debe Perder Ni Empatar Colombia Tiene Que Ganar Los Tres Restantes Partidos Digo Salvo Porque Todo Depende También Que Van A Ser Los Otros Las Otras Selecciones Eventualmente Potría Estar Un Empat Y Luego Los Partidos Iria Ganando Saría 17 19 20 22 23 Con Un Empat Estaría 24 Ma Según Gio 24 No Es Suficiente Para Poder Classificar Y Por Lo Tanto Colombia La Veo En Bilico La Veo En Grande Grande Difficultá Ahora Colombia Argentina Puede Colombia Lograr Ganarle Argentina Con Un Catenaccio Bien Bien Realizado Para Mí No Por Que Porque Argentina Si Si Non le Chiere Decare El Paso Argentina Gana Tiene Un Coeficiente Tecnico Mostruoso Yo Me Acuerdo En Una Trasmisión Televisiva In Italia Hace Muchos Años Donde Estaba Como Huesped Marco Tardelli Non Se Cuantos De Vosotros Acuerdan Quien Fue Marco Tardelli Y Bien Marco Tardelli Explicó De Como El Fútbol Argentina Tiene Jugadas Extraordinarias Magníficas Que Logran Incluso Derrotar Un Catenaccio Con Pocos Espacios Donde Están Pocos Espacios Te Pueden Filtrar Ballones Sea A Nivel De Césped Y Sea A Nivel Aereo Para Así Decirla Y Te Mette Gol Por Lo Tanto Si Aún Colombia Quisiera Ser Catenaccio Non Va Poder Ganar Ni Impattar Con Argentina Entonces Para Colombia Este Próximo Partito Que Va Estar El Primero De Febrero Si Colombia Non Va Tener La Concesión Por Parte De Argentina De Ganar Este Partito Si Argentina No Le Hace Este Favor Colombia Para Mi Queda Ya Fuera De La Posibilidad De Poder Se Calificar E Ir Al Mundial Sin Este Partido Ya No Digo Este Poi Obviamente Los Demás Partidos Pero Ya Este Es Digamos Así Un Primer Signo Porque Poi Luego Digamos Estaría Otro Partido Contra Venezuela En No Este Contra Argentina Lo Tiene Que Ganar A Fuerza Si Argentina Le Deca El Paz De Lo Contrario Non Va A Poder Nada Este Todo Los Veo Para Más Videos Cabrones Chingones Chao La Próxima